Andri, ciao, ciao Giulia. Buongiorno. Здравствуйте, здравствуйте. Andri ha il microfono proprio sotto il naso, si sente tutta la sua respirazione. Dacci un po' di due microfoni, perché adesso ho sentito dimenticare. No, deve svolglierlo verso l'esterno un po'. Verso l'esterno, così. Andri, dacci i punti di riferimento per la tua sessione di oggi. Andri, esclare i nostri aspetti per la sessione. Il primo punto che vorrei trattare sono i spasmi che hanno alla scena. Mi vengono dei spasmi nelle varie zone della scena, possono essere fra le scapole oppure la zona lombale e faccio fatica a dormire. Ho cercato di risolvere il problema da vari medici e con la medicina non tradizionale, però non ho portato alcun risultato. Un po' di due anni fa, mi è capitato un episodio quando ero bloccato totalmente, non riuscivo neanche a girare il collo per un buon periodo di tempo. E allora mi sono rivolto a una persona che mi ha aiutato a sbloccarmi, però gli spasmi non sono andati. Perché ho parlato di questa persona? Allora vorrei raccontarvi il modo nel quale mi ha curato. Praticamente mi stringeva fra le mani, stringeva tutto il mio tronco, sentivo il dolore, però riusciva a sestare le ossa così. E lui in qualche modo era come se fosse fanatico della religione, del giorno del giudizio, di karma, di tutte queste cose. E io tante volte lo vedo come se vedessi la sua immagine davanti agli occhi. Vorrei anche dirvi che ho un'informazione che tutto questo deriva da una specie di clan non genealogico al quale appartengo. Praticamente dalla parte di papà c'erano... La gente stava dalla parte delle forze oscure, invece dalla parte della mamma c'erano i familiari delle forze di luce. Loro avevano certi poteri nella loro vita e potevano fare delle cose alle altre persone attraverso anche delle fotografie. L'ultimo aspetto che vorrei trattare è che quest'estate sul piano fisico ho visto un UFO sopra la mia casa. E vorrei vedere di cosa si trattava e cosa ci faceva sopra la mia casa. Perché lo vedevo proprio fisicamente. E' un altro che volevo dire, inizialmente. E' vero che provavo con le donne, il vostro metodo. Solo per un'ora, tutto è successo. E tre e un po' di mesi ho sentito migliore, ho studiato sport, tutto è stato fantastico. Io e mia moglie abbiamo provato l'ipnosi con il vostro metodo e praticamente in un'ora, in un'ora di lavoro, sono spariti tutti i miei sintomi e per tre mesi e mezzo mi sentivo benissimo. Riuscivo a fare di tutto, facevo dello sport. Davai, ostraio esse paudo, veniamo e ostrazo già neccio. Andri, nastroi, per favore, questa camera. La camera, no? Da, da. Allora, tutto. Так, видно? Va bene. Ok, bene. Adesso, Nadia, comincio con un'induzione breve e, se non dovesse essere sufficiente, continuo con una un po' più lunga. Noi, Nadia, prima comincio con l'induzione短a, e se non mi sembra abbastanza, continuo con l'induzione短a. Bene. Quindi adesso, conterò da 10 a 1. Mentre conto, ti rilassi. Dieci. Dieci. Nove. Nove. Vosim. 7 7 7 6 7 8 9 10 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 11 11 12 12 12 12 12 12 13 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 21 22 22 23 23 23 23 24 19 20 20 20 20 20 20 23 23 23 24 25 25 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 26 26 25 26 25 26 28 28 29 29 30 30 30 30 31 31 32 32 due due tre tre come lo adesso mi sento più tranquillo come lo visualizzi come lo vedete come lo vedete con il cuore il cuore come lo vedete il cuore come lo vedete come lo vedete come lo vedete la parte la parte del suo corpo è così come lo conosco nella vita ma se lo guardo da dietro dall'escapola in giù come se non ci fosse proprio colonna vertebrale come se ci fosse una porta dentro bene innanzitutto osserva il dna eterico di tuo marito e dimmi se lo riconosci se è lui первым делam rassmartri eferna e dnk e скажi mi lo vedete lo vedete lo vedete lo vedete lo vedete si è lui ma quando lo toco vedo un involucro di un altro essere più alto di lui e questo essere sta all'esterno e mio marito è dentro di lui chiedi a tuo marito se ci permette di lavorare in lui in questa sessione spreccio daetli on nam pozvolenie na raboto v nion naetam seance on gavarit da snarouje su cestuo net lui dice di si e questo essere che sta all'esterno di lui dice no contemporaneamente dimmi quale è la causa esoterica dei suoi spasmi alla schina скажi mi qual è la esoterica причina il spasmo della schina l'immagine si è bloccato torno indietro nel tempo e ti rifaccio la domanda avròci e io dìmi dìmi parlare l'esercizio come l'elettricità nel corpo non funzionasse come si deve dentro il suo corpo come se ci fosse un corto circuito vedo delle scintille dentro di lui da cosa dipendono questi corti non funzionasse bene da cosa dipendono osserva se nel corpo eterico di tuo marito ci sono delle cose che non sono sue no non quindi se non 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 e da noc, è proprio un proiettivo, non lo so, è proprio un giro, un giro giro. Pagazzi, pagazzi. Dietro di lui, dalla nuca fino ai piedi, c'è come se un ambiente aperto in forma di rettangolo, è tutto vuoto, vedo questo? Beh, come si chiama questo essere che hai visto con lui? Ok, come si chiama questo essere che hai visto con lui? Per domani? Lo devo chiedere? Sì. Chiedere a lui, come si chiama? Per domani, come si chiama? Xeon. 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 Cosa è Xeon? Ah, Xeon. Più o meno mi dici che forma ha. Aprici a me, come si chiama? Come si chiama? No, io lo vedo solo con l'interno, ha l'impressione come un giro. Si chiama un giro. Si chiama un giro, ma si chiama un giro, ma si chiama un giro, ma si chiama un giro, come un giro. si chiama un giro. Lo vedo solo da davanti, la forma è di umanoide, diciamo, è fatto di, il suo corpo è come se fosse gelatinoso, di colore blu, argento, è un po' trasparente. E come in faccia? E come in faccia? A come in faccia? Ehm. Cas. Minia'ci adesso sta... No c'erre... Glazi... Glaza a me sti... Cateche che sti che a peccata. C'erre come l'ipo, non capisce. Le occhi sono l'ipo, non vedo nessuna, che cosa sia una rigata. ma come se non ci sia. Di che colore è la sua pelle? C'è quel colore? Ehm... No, quella... Ehm, adesso, come scrivere? È un colore sero, ma non è un colore ma è un colore... ma è un colore... Fra azzurro e grigio però è trasparente, come se fosse trasparente. Chi è il suo capo? Chi è il suo capo? Chi è il suo capo? Lui dice io. Degli di chiamare il suo capo. Degli di chiamare il suo capo. Mi fa resistenza. Mi fa resistenza. Lui non fa nessuna resistenza. Degli di chiamare il suo capo. Perché non abbiamo tempo da perdere. Degli di chiamare il suo capo. Degli di chiamare il suo capo. Ehm... Degli di chiamare il suo capo. E io... Degli di chiamare il suo capo. Degli di chiamare il suo capo. E io... questo essere. E io so che il capo sta dentro quel UFO. Andiamo nel UFO. Degli di chiamare il suo capo. Degli di chiamare il suo capo. Chi è il capo? Chi è il comandante di questa nave? Chi è il comandante di questa nave? Chi è il comandante di questa nave? Degli di chiamare il suo capo. Degli di chiamare il suo capo. Sono in tanti. Come se lui avesse tanti cloni. Quattro sulla destra, quattro sulla sinistra. Ma a lui lo vedo più... in modo più nitido. Che forma ha lui? Quale è il suo capo? Quale è il suo capo? Quale è il suo capo? Il suo capo è la stessa. Ma il corpo non è prospettivo. E... Può cambiare il liceo. Cioè... L'altro capo è il suo capo. E in un momento... Ha una capo. La forma è la stessa. Come dico l'essere di prima. Però non è più trasparente. E lui è capace di cambiare la faccia. Perché lui si è girato verso di me. Prima aveva la faccia maschile. Poi è diventata femminile. E così via. Bene. Leggi le informazioni del suo codice genetico. E ricostruisci tu la sua forma. Bene. Sчитai informazione del suo genetico codice genetico. E la sua forma originale. Questo è anche un gomanoidio. Ma è più alto e in costumi. E... Anche questo è un umanoidio. Però è più alto. E ha... E ha... E ha... E ha i vestiti addosso. Come faccio? C'è un gomanoidio. Come si chiama il gomanoidio. Come si chiama? E come si chiama? C'è un gomanoidio. E come si chiama? Cosa vuoi? Perché ti sei nascosto? Perché ti sei nascosto? Mi è così valutato. Mi conviene così. Perché non volevi farti vedere da me? Perché non volevi farvi vedere da me? Ma è anche ovviamente. È naturale la cosa. Perché? Perché? Adesso non sei più nell'ombra. Adesso sto parlando con te. Ho capito. Ho capito. Cosa ci fai con Andrii? Che ti facciano con Andrii? Oh, molti esperimenti. Molti esperimenti. Quali esperimenti? Quali esperimenti? Nervo sistema. Stiamo studiando il sistema nervoso. Da quanto tempo lo state studiando su Andrii? Stiamo studiando su Andrii? Due giorni. Due vite. Cosa avete ottenuto fino adesso da questi esperimenti? E che avete ottenuto fino ad ora di questi esperimenti? Gli esperimenti non hanno avuto successo, ma loro hanno tentato di mettere dentro di lui questo loro esso. Gli esperimenti non hanno avuto successo, ma loro hanno avuto successo, ma loro hanno avuto successo. Gli esperimenti non hanno avuto successo, ma loro hanno avuto successo, ma loro hanno avuto successo. Gli esperimenti non hanno avuto successo, ma loro hanno avuto successo. Se noi agiamo non attraverso il cervello, ma attraverso il cervello della schiena, non so come si chiama. Noi riusciamo a prendere il controllo su tutto il corpo, ma la persona stessa pensa che sia lei a controllare il proprio corpo. Fino adesso cosa avete fatto fare a Andrìa? Ah, da questo tempo, cosa avete lasciato di fare, Andrìa? Non abbiamo lasciato di fare niente. Diciamo che il nostro obiettivo era farlo interferire da un nostro collaboratore. Da un gelatino? Non so. Non so. E' un'esplice? E' un'esplice. E' un'esplice. Ma se non fossimo riusciti, avremmo provato un altro essere. Lasciami con Nadia. Lasciami con Nadia. Nadia? Si. Disconnetti. Adseguimi. Come ti senti? Come ti senti? Bene, non è agressivo. Bene, perché lui non è tanto agressivo. Lui ha parlato di essere gelatinoso. Tu vedi un essere gelatinoso in Andrie? Lui ha parlato di essere gelatinoso in Andrie. Tu vedi che è successo dentro di Andrie? No, dentro di Andrie. Non c'è più il corpo fisico di Andrie. Questo essere sia dentro che fuori Andrie, perché c'è come dimensione, supera le dimensioni del corpo fisico di Andrie. Andiamo a vedere, Nadia, come è stato inserito questo essere gelatinoso in lui. Andiamo a vedere quest'operazione. Nadia, quando andiamo a vedere questa prima operazione, quando abbiamo iniziato questo essere gelatinoso in Nibu? Come dicevo prima, questo è successo durante il parto, durante la nascita, proprio al momento quando il bambino è uscito fuori. Cosa è successo? Bene, guarda cosa è successo. Quando il bambino è arrivato, non si riuscì, ma non si riuscì, ma non si riuscì. Proprio quando il bambino è nato, ancora prima che hanno inciso il cordone umbilicale, io vedo questo essere che era di dimensione di un granello. Prima era più denso, ma era come un'energia. E man mano che il bambino cresceva si sviluppava anche questo essere. Qual è la funzione di questo essere gelatinoso? Qual è la funzione di questo essere gelatino? Questo è il loro modo di esistere, perché loro crescono insieme all'essere umano, e questo è solo il loro modo di vivere, di esistere qui. Quali problemi ha causato a Andreio questa interferenza? Quali problemi ha provociato a Andreio questa interferenza? Sama... Tutto era un problema in questo generatore, che lo stavano dopo, perché lo stavano un impuls, non comprendendo la fisica, ma come come un impuls, lo stavano, lo stavano in fisico, lo stavano non si riuscì, 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 non si riuscì. Allora, questo generatore del quale parlavo prima, l'hanno inserito solo dopo, con il tempo, perché generando questi impulsi, attraverso questi impulsi, questo essere può stare dentro il corpo, perché altrimenti andava avanti e indietro e non riusciva a resistere. Adesso dimmi chi è il capo di questo progetto. E chi è il capo di questo progetto? E chi è il capo di questo progetto? non vedo il capo ma vedo un pianeta e vedo lì diciamo un essere con tanti altri suoi simili è come se avesse l'obiettivo di trasportare la loro popolazione altrove andiamo lì che forma ha questo essere? come si tratta di questo successo? qual è la forma? un pianeta? non un pianeta ma un pianeta ma un pianeta ma è un pianeta ma è un pianeta tutti i pianeta sono diversi come cloni tutti i pianeta hanno una cosa più grigna e una cosa più grigna e hanno più rostro e nel pianeta sono circa 5 ma io vedo 5 allora questo essere il capo è uguale a tutti gli altri perché tutti gli altri sono cloni riesco a distinguere dove è il clone e dove è invece un essere vero e proprio perché la sua pelle è più densa e del colore più blu intenso e loro sono, non so, un cinque e tutti gli altri sono cloni come si chiama questo essere? come si chiama questo essere? un essere che si chiama Kiloi lo vedo adesso Kilo? Kiloi più o meno la forma di quello che ho visto su quella nave e lui si è più oltre o meno stessa come lo che è stato sul pianeta? si, è solo che si trova su questo pianeta mi fa parlare con Kiloi Tu mi permette di parlare con Killoy? Si. Killoy? Io ti sento. Killoy, che è quello che hai mandato su quella nave sulla terra? Killoy, che è quello che hai mandato su quella nave? Questo è il mio amico. È un mio compagno. L'hai mandato tu? Tu lo hai mandato? Abbiamo obiettivi uguali. E che sono molto interessato ai vostri esperimenti. Qual è l'obiettivo finale di tutto questo lavoro? Qual è l'obiettivo finale di tutto questo lavoro? Nostro pianeta non ha più nessun tipo di risorse e dobbiamo... No, dobbiamo muovirci, Dico. Dove si trova il vostro pianeta? Cosa cercate sulla terra? Cosa cercate sulla terra? Cosa cercate sulla terra? Cosa cercate sulla terra? È successo tutto per caso, siccome gli esseri umani sono abbastanza stupidi, non abbiamo trovato difficoltà di venire qui e in questo modo riuscire ad abitare anche qua, perché altri esseri sono un po' più intelligenti. Perché dici che gli esseri umani sono stupidi? Perché ti dici che gli esseri umani sono stupidi? Perché gli esseri umani sono stupidi? Perché loro non riescono a vedere e noi riusciamo a manovrarli. E voi non vi ritenete stupidi? E voi non vi ritenete stupidi? E voi non pensate che voi stupidi? Vosmogeno, ma non è così. Possibilmente, ma non così tanto come voi. Perché io vedo che non siete riusciti a proteggere il vostro pianeta. Cercate la sopravvivenza altrove. E voi tentate di riuscire in un'altra zona? Non è stupidità questa. Questo non è stupido? Perché non è stupido? Non è stupido. È meglio che sto zitto. Perché? Parla. Perché è vero, ma non voglio prendere. Ora l'ha già ammesso. Ti ho già appena. Come siete ridotti in questa maniera? Cosa è successo? Come siete riusciti a questo modo? Come siete riusciti a questo modo? Che succede? Per tipo vostro, c'è una più tecnocratica civilizzazione. E noi siamo attravili il suo pocio e l'atmosfera. La nostra civilizzazione era simile a voi, ma era più tecnologica, diciamo, e quindi abbiamo avvelenato quasi tutto, sia terreno, sia atmosfera. Cosa prendete dall'essere umano esattamente? Che inizialmente voi esameete u cilieceschich sucessi? Come inizialmente abbiamo due meccanismi. La prima è che quando riuscire a rinforzare il corpo come semen, cioè la informazione che apprende il corpo, e che è necessario controllare il sistema nervo con l'impulso. Allora, ce ne sono due meccanismi. Il primo è entrare dentro l'essere umano durante la nascita attraverso come un seme, ma questo seme contiene dell'informazione necessaria per crescere. E il secondo meccanismo è il controllo del sistema nervoso attraverso questi impulsi. Quanti esseri umani avete preso per questa operazione? Сколько людей voi взяли per questa operazione? Per tutto il tempo 150.000. 150.000 in totale. Tra questi 150.000 non avete trovato nessuno con altre interferenze. E tra questi 150.000 persone voi non avete trovato nessuno con altre interferenze? Таких molto, ma come semmo non si interessa. Oltre noi dividiamo il corpo come territorio. Ma veramente sono tanti con altre interferenze. Però di solito non ci danno alcun fastidio oppure dividiamo il corpo come se fosse un territorio da dividere. Non siamo entrati in conflitto con altre specie? Quindi voi con altre videmi non vengono in conflitto? In questo momento non sono reptiloide. Siamo entrati nei conflitti con i rettili. In questo momento avete dei conflitti accessi con questi rettiloidi? A questo momento voi in conflitti con i rettiloidi? Non ho adesso per emiria. Zatishia. No, adesso diciamo il periodo di quiete. Come avete risolto i conflitti con loro? Come avete risolto i conflitti con i rettili con loro? Oli sono anche interessati in la vita in la terra, in le persone. Ma solo diventiamo le persone. Non si trattiamo in un'altra persona. Non si trattiamo in un'altra persona. Oli non possono affrontare la nostra planetà. Ma per loro, perché sono distraccati. E loro, e noi. Quindi anche loro sono interessati a vivere dentro gli umani. e quindi noi cerchiamo di non interferire l'uno con l'altro. E anche loro... Rasmaghi per il pianeta ancora. Perché noi non possiamo affrontare... No, non possono affrontare il pianeta. Ma noi per loro. Perché i pianeti sono distraccati. Non c'è la possibilità di combattere fisicamente. E loro non riescono ad attaccare il nostro pianeta. Noi non riusciamo ad attaccare il loro pianeta. Perché non abbiamo proprio le forze a entrare in conflitto fisicamente. Siamo troppo deboli. Chi vi ha dato questa tecnologia? Chi vi ha dato queste navi per potervi spostare? A chi vi ha dato queste tecnologie, questi cosmini корабli, per poter vettare qui? Sono stati di nostri civilizzazioni. Sono come le rimanenti delle nostre civilizzazioni. Cosa è rimasto. La nave con cui hai mandato il tuo collaboratore. Da chi vi è stata data? Tot корабль, na котором tu hai отправito il tuo collaboratore. Chi ti ha dato il tuo collaboratore? E' nostro. Chi l'ha progettato? A chi lo ha sproiettato? Nosso ingegnero. E' nostro ingegnero. Dove avete appreso queste nozioni? Queste informazioni? A dove avete eserciato questa informazione? E come ho avuto? E' questo, noi stiamo a sapere. E' per noi non è nuovo. E' per voi l'automobile. Non è sempre stato. L'abbiamo sempre saputo. Non è una novità per noi. E' come se per voi fosse, non so, un'automobile. L'abbiamo sempre saputo. Perchè mi dici tutte queste cose? Perchè mi dici tutte queste cose? Io non lo so. Non lo so. Vuoi saperlo? Vuoi sapere perché? Sì. Perché lo vuole Andrei? Perché Andrei questo vuole. Io ho capito. Ho capito. In questo momento Andrei può fare tutto quello che vuole con te. Lo sapevi. Ti znalo di questo? Non. No. Come puoi non sapere una cosa così elementare? A come ti ne знаешь takich elementarnych vissii? Mi parli di tecnologia, di ingegneri, di navi. E non sai questa cosa così basilare? Ma di solito non ci vedeva nessuno e siamo abituati a pensare che la gente non ci vede. Lasciami con Nadia. A staif mi assi, Nadia. Nadia, disconnetti. A stai, Denise. Come stai, Nadia? C'è, Nadia? Bene. C'è un po' тяжullo. Bene. Lui era un po' pesante. Ascolta, Nadia, andiamo a vedere in quale momento Andrei ha autorizzato loro a interferire. Nadia, andiamo a vedere in quale momento Andrei ha dato l'autorizzazione per l'interferenza in cui ha avuto l'interferenza. Dove sei? Di. Io ho vedo un sato, un terzo, 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 un terzo. Vedo un frutteto pieno di meli, vedo che c'è una giornata di sole e lui sembra che sta raccogliendo le meli o qualcosa del genere. Stai parlando di Andrei o di un'altra vita? Non ho capito. Ti говорisci mi ad Andrei o di un'altra vita? Non ho capito. È una vita. Mi sembra che sia una altra vita sua. Che anno è? Quale è il tuo anno? 1864. 1864. Lui è uomo o donna? Un мужчino o donna? Un мужчino, ma ha dorsi. Lui è un uomo, però ha capelli lunghi. Quante anni ha? 25. 25. Dove vive? In quale città? Gli è un'altra vita? In quale città? Mi sembra che è Europa, perché... Non ne знаю, non posso capire dove, ma è un'altra parte d'Europa. E là città, ma come se fosse un'altra vita. Non vedo che è città, ma mi sembra proprio Europa. E vedo delle case, non so, case di campagna, qualcosa di genere. Beh, raccontami cosa succede. Vai al momento in cui lui autorizza questi esseri a interferire con lui. Ok, raccontami mi, che succede. diciamo che litigava spesso e lui lo priveva spesso, lo sgridava e Andrì di allora si sentiva molto represso e questo era come canale d'entrata. Cosa è successo? Raccontami. E che è successo? Rascagimmi. Quindi guardo continuamente le scene che suo padre lo tratta veramente sui non servono. male vedo che lo spinge non so nell'etame così andrì si sente molto represso molto offeso e come se evocasse delle forze o per diventare più forte o per in qualche modo quindi osserva la scena energeticamente allora lui è caduto è tutto sporco di questo letame lo vedo da dietro e vedo che proprio dalla schiena come se non so come come se uno cadesse dentro la pasta di pane che ci sono tutti sti filamenti vedo questi filamenti dalla schiena che è l'entità che si presenta a lui stosa sucesso перед ним появляется появляется главный из планеты вот тут он как раз физически на землю физически в тонком теле на земле e он подключается опять же она подключается как-то к нервам но это выглядит как нити вот такие заходят в тело еще пока ну как соединение allora si presenta a lui il capo più grande quello del pianeta allora scende fisicamente nel suo corpo sottile e si connette a lui attraverso non so attraverso i nervi e vedo questi filamenti ok mi fa parlare adesso con la parte supriminale di andrei сейчас еще я вижу как одна нить она вот так идет внутрь позвонка она вот такой делать круг как петлю а потом внутрь самого позвоночной короче жидкости вот этой спины мозговой прям внутрь как прорастает vedo uno di questi filamenti che entra entrano in tutte le vertebre fa un giro e poi entra proprio dentro midollo spinale dentro quel liquido dentro quel liquido e fa alle radici no mi fa parlare con la parte subliminale di andrei ты позволишь им поговорить с подсознательной частью андрея да си андрей да я слышу си ти hai visto come ha fatto d'entrare questo essere in te ты видел каким образом это существо вошло в тебя видел мне так это не понравилось sì ho visto e non mi è piaciuto ha fatto ну ты же призвал к силам ты призвал к посторонней помощи помощи извне и он и ты воспользовался да и но я не знал что если я хотел силы я получил слабость ты понимаешь что ты должен был восторить его что ты должен чтобы он был вошел, тебе пришлось как бы попросить силу и тогда он смог прийти он был необходимым вам заставка Perché per poter stare nel tuo spazio energetico deve sottomettersi alle regole della tua volontà. Adesso lo capisco. Bene. Adesso che lui ha capito puoi cambiare la tua volontà. Теперь, quando tu hai это понял, tu puoi cambiare la tua volontà. Puoi cambiare decisione. Tu puoi cambiare la tua volontà. Lui è sotto la tua volontà. Lui находится в подчинении твоей воли. Sì. Adesso lo stai trattenendo attraverso la sua stessa tecnologia. E ora ti удерживаешь его посредством его же технологии. Adesso lui è sotto il tuo controllo. E ora lui è sotto il tuo controllo. È basata una presa di coscienza della situazione. Bene. Lasciami... Con kiloi. Quiloi? Da. Sì. Come stai? Come stai? Come stai? Oh, è buono. Non bene. Perché? Perché? Mi ha chiamato in una trapola. Perché sono stato chiamato dentro una trapola. Non sei stato chiamato. Tua никто non ha chiamato. Ti sei messo tu dentro la trapola. Ti sei messo tu dentro la trapola. Ti sei messo tu nello spazio energetico di Andrii. Ti sei messo tu dentro la trapola. No, è già chiamato. Ma lui mi ha chiamato. E tu sei entrato? Ah, tu è entrato? E cosa... cosa c'è da fare? Non volevi stare con lui? Tu non volevi stare con lui? Stai con lui? Buď s nìm. Ma non in così modo. Perché cosa cambia adesso? Facciamo che ora si sceglie. Perché adesso è lui che ha il controllo nelle sue mani e io sono il sottomesso. Adesso lui può fare di me quello che vuole. bene. Quindi adesso lui ti utilizzerà per i suoi esperimenti. Bene, e ora ora ti servirà per i vostri esperimenti. No, io non voglio. E ma io non voglio. E che lui voleva? Non voglio. Ma io non ho chiamato. E ma io non lo ho chiamato. Ma tu sei entrato. Ma tu sei in l'aria. E come ti faccio? Io non ti lo dico. Io lo so, ma non ti lo dico. E io le so, ma non ti lo dico. E io lo so. ma non ti lo dico. E io lo so, ma non ti lo dico. E io le so, ma non ti lo dico. Jes компании con Nadia. E ostat'mi nas nadi. Nadia? Sì. Ma tak veselo da mi not. to chin Musica Si è divertita, quando lo guardavo, mi sono divertita. Descrivi un attimo la situazione così come la vedi adesso. Apiši mi, in general, la situazione che ti vedete. Allora, io vedo che sono ancora connessi attraverso la schiena e poi questo chilo e sta di fianco, innanzitutto ha cambiato colore, è diventato in colore color sabbia, perché quando ha energia è di color blu, invece quando è svuotata di energia diventa color sabbia. E lui sta lì e aspetta. Ok, adesso chiedi a Andri cosa vuole farle. Ok, adesso chiedi a Andri, cosa vuole farle? Io voglio svuotare, dice. Lui dice che vuole liberare. Va bene, se lui vuole liberarsi, deve liberarlo. Ok, se vuole liberarsi, deve liberarlo. La liberazione è sempre mutua. Molto. Vedete, svuotare, 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 svuotare. Scusate, che vuole liberare? Devo dire di farlo liberare? Se lui vuole liberarlo, digli di liberarlo e digli di tornare a quel momento, in quel momento in cui lui ha chiamato la forza, ha chiamato l'entità, lo ha autorizzato e digli di annullare tutto. Se lui vuole liberarsi, скажi, se vuole liberarlo, e скажi, se vuole liberarsi indi. in quel momento, quando si chiedeva a una sottocchia, quando si chiedeva questa sottocchia e si chiedeva a lui, скажi lui, puoi esmenti il suo rischio e tutto annullo. Ho già già fatto, io vedo due paralele жизни, la prima e la nuova. La prima e la nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la spina, come si tratta, come si tratta con una grande velocità come la velocità della nuova e tutti questi meccanismi, sono proprio riusciti. Allora, vedo tutte e due le vite nel parallelo, quella vita precedente vedo che si scioglie come se si sciogliesse il nodo che si era creato allora. Nella vita attuale, lì al posto della porta, che vedevo alle sue spalle, sta uscendo non so, un fascio di luce fortissimo e tutti questi meccanismi stanno uscendo fuori, velocemente. Continua. Allora, continuiamo. il mio odio verso il padre e vorrei liberarmi di questo. Lui chi? Andri? Chi è Andri? Sì, questo ha detto. Lui dice, sì, ho capito tutto, però ho questo dolore, questo odio che mi reprima e mi fa veramente male. Osserva se il padre in quella vita passata Andri lo ritrova in questa vita sua attuale. E ora, guarda. E ora, guarda. E ora, guarda? Andri lo ritrova in questa vita? Andri lo ritrova in questa vita? Sì, è il padre in questa vita. Sì, lui è il padre in questa vita. E ora, guarda. La rabbia, come qualsiasi altra emozione, è una sua produzione energetica. Lui può prendere questa rabbia con le sue mani energetiche, la può estrarre dal suo corpo e buttarla via per un portale. Che lo faccio. Puoi lo faccio. Puoi lo faccio. Sì, è l'abbata. Sì, è l'abbata. Ci sono altre emozioni negative che non gli piacciono. E ho altre negative emozioni che non gli piacciono? Sì, è l'abbata. No, non dice più niente. Bene. Adesso, dimmi quando non ha più nessun impianto, nessuna tecnologia addosso e quando non vedi più nessun essere con lui. E ora, adesso, non vedi che non vedi nessun impianto, nessuna tecnologia addosione, nessuna cosa, lo sognata a lui, non vedi nessuna cosa, non vedi nessuna cosa. E ora, guarda. Sì, lo scusso servano, vedi. E che è che è in cuore? Cosa? 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 Due polosche, per creare che si vede le lezze. Ci sono come due righe sui bordi della tiroide. E a cosa serviva questo dispositivo? Leccevo bella nužna, il tuo strumento. Allora, non capisco. E anche, non c'è nessuno che sia responsabile di questo. E poi non c'è nessuno che sia responsabile di questo. Dì ad Andrì di chiamare il responsabile di questo dispositivo. Dì, dì, poi ti chiede un'azienda responsabile su questo impianto. Oh, una riptilia. Un rettile. Un rettile. Un rettile. E dove, dov'è chi lo è? E a cosa serve questo dispositivo? E a cosa serve questo dispositivo? Sono tanti questi tubicini, non solo alle braccia, e serve per prelevare l'energia. Bene, lo stesso procedimento, il meccanismo dell'interferenza è uguale. Si basa sulla volontà dell'interferito. E bisogna fare lo stesso, perché il meccanismo di esbavimento dell'interferenza è uguale. E si basa sulla volontà dell'interferito. Quindi dì ad Andrì se vuole disfarsi di questa interferenza. Quindi sprosi ad Andrì se vuole disfarsi di questa interferenza. Sì, si sentono. Anche non pensano. Si proiettano la voglia. E con questi movimenti si comincia a spiegare. Non solo ci sono alcuni spiega. Si rischia di non tenere. Molto. E siccome lui ci sente a tutti quanti, non devo neanche chiederlo. Lui fa, diciamo, attraverso la sua volontà, fa qualcosa che tutti questi impianti cadono. E poi ci sono anche le palline, ma cade tutto e dice dai non perdiamo tempo, so già tutto cosa devo fare. Quali problemi gli provocava questa altra interferenza? Ah, questa è una altra interferenza. Quali problemi gli ha provociato? Io vedo, che... Sluso... Il sangue del sangue. E come se sentisse la contaminazione del sangue. Ma non so di cosa si tratta. Beh, fino adesso non gli ha dato nessun problema. E da questo momento non ha dato nessun problema, questa interferenza? Beh... Non si tratta. 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 Perché fisicamente lui non la percepiva molto. Ok. Adesso osserva il suo futuro con queste nuove condizioni. Come lo vedi? Spasmi alla schiena? Ti vedete che spasmi alla schiena? Eh... Io vedo che non ci sono le причine, ma non può sentire le sentimenti fantomiche. Vedo che le cause esoteriche non ci sono più. Ma lui può sentire ancora come dei spasmi fantasmi, no? Come ricordi del corpo. Ehm... Cos'era o di chi era quell'UFO che ha visto un giorno sopra casa sua? Ah, che c'era quella italiana tariela che si vedeva ogni giorno in casa? Io vedo che sono le tarielche che da anni parlavano e che sviluppavano la famiglia. Sì, vedo questi UFO, erano più di uno e stavano monitorando, diciamo, i dintorni. A quale specie di extraterrestri appartenevano? Sì, vedo che sono dei grigi e hanno qualcosa a che fare con i militari. E cosa ci facevano sulla vostra casa? Ah, che hanno fatto nel vostro luogo? Ah, che hanno fatto nel vostro luogo? In realtà hanno risposto il tutto il cittadino di Kharkiv. Ah... Ma veramente stavano monitorando e osservando tutta la nostra città, Kharkiv. Ma noi li abbiamo visti. Perché li avete visti? Cosa è successo? Ah, perché voi li avete visto? Erano loro nel piano fisico o voi stavate riuscendo a vedere nell'eterico? Sì, erano loro nel piano fisico? Sì, erano loro nel piano fisico? Sì, erano loro nel piano fisico. Sì, erano loro nel piano fisico. Sì, erano loro nel piano fisico. E chi era il capo di questa operazione sulla vostra città? Ah, chi era il capo di questa operazione sulla vostra città? Ah, chi era il capo di questa operazione sulla vostra città? Ah, chi era il capo di questa operazione sulla vostra città? Ah, chi era il capo di questa operazione sulla vostra città? Ah, chi era il capo di questa operazione sulla vostra città? Ah, chi era il capo di questa operazione sulla vostra città? Ah, chi era il capo di questa operazione sulla vostra città? Ah, chi era il capo di questa operazione sulla vostra città? Come si chiama? Come si chiama? Aspetta che lo chiedo. Io vedo la luna e la luna è tutta, ma non posso nemmogliare. Vedo la luna e vedo che c'è qualcuno sulla luna ma non riesco a avvicinarmi di più. Vai, vai sulla luna. Vai, vai sulla luna. Vai lì. Vai qui. Chi è? È una differenza. È come una specie di grigio, la pelle è più scura e la loro testa è come se fosse la testa di un pesce allungato. Si trovano sulla superficie lunare? In quale parte della luna si trovano? In quale parte della luna si trovano? In quella che non vediamo. Della parte che non è visibile ai nostri occhi. Mi fai parlare con questo capo? Mi fai parlare con questo capo? Mi fai parlare con questo capo? Eh? Dudo. 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 Ok. Mi lasci parlare con lui? Sì. Chi ha dato l'ordine di passare sul piano fisico? E chi ha dato l'ordine di passare sul piano fisico? Questo è il pianeta. È un pianeta. Ora è un modo più utile. Ci sono state in modo estremamente in migliori. Il clima è cambiato, tutto il mondo è cambiato, non è facile un po' di attività, ma anche un po' di attività, come attività di vulcani, di terra. Naturali, vulcani, alluvioni e così via. Chi ha dato l'ordine di apparire sul piano fisico? Lui mi mostra un nome e adesso sto guardando il nome, grandes, Ricco. Ma non vedo come finisce. Che forma ha questo Rico? Quale forma ha questo Rico? Beh, è sembra una Reptilia. È un rettile. E a parlare con Rico? Ti posso parlare con Rico? Sì. Rico? Sì. Chi ha dato l'ordine di far apparire le navi sul piano fisico? Chi ti ha dato l'ordine di dare l'ordine? Quante volte vi devo dire di non farvi vedere dagli esseri umani? E' possibile che fate fallire sempre tutti i progetti? Perché vi siete fatti vedere? Rispondi. Avevamo bisogno della paura. Ora voglio sapere quanta energia vi è costato passare dal piano eterico a quello fisico. Ora voglio sapere quanta energia vi è costata passare dal piano eterico a quello fisico. Benissimo. Abbastanza. Chi la paga questa energia adesso? E chi ora si sposta per questa energia? Rispondi. Soprattutto. 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 Noi stavamo raccogliendo l'energia sopra le città. Voi raccogliete energia sulla città, ma intanto per passare sul piano fisico ne consumate ancora di più. Soprattutto. 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 Sarete castigati per questo. E ora dimmi, di che è stata l'idea dell'ultima catastrofe naturale sulla Terra? Mi riferisco al 2017 anno terrestre. Chi ha dato l'ordine? Chi ha dato l'ordine? Ci sono cinque nazioni. Ognuna di queste nazioni ha un suo comandante, come uno di noi. Noi siamo tutti d'accordo con loro. A quale catastrofe ti stai riferendo? A quale catastrofe ti stai riferendo? A quale catastrofe ti stai riferendo? Ognuna di queste catastrofe ti stai riferendo? Ognuna di queste catastrofe non è ancora avvenuta. Sto parlando dei vulcani. Io voglio sapere, voglio conoscere, chi ha dato l'ordine dell'ultima catastrofe sulla Terra. Io voglio sapere, chi ha dato l'ordine dell'ultima catastrofe sulla Terra. Io non lo so. Non mi lo dicono. Come vi è saltato in mente di provocare più di tre uragani nello stesso periodo di tempo? A come vi è saltato in mente? Come vi è saltato in mente? Cosa state combinando? Che voi там творite вообще? E' stato un'ordine. Perché? 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 E' bisogna terra. Noi abbiamo bisogno della Terra. Cosa avete voluto ottenere con questi uragani? Che c'è più paura, più la fine si è vicina, e più c'è distruzione. Quanto siete stupidi? Tu sarai rievocato dal tuo ruolo. Tornerai un nulla, come lo eri prima. Non sei stato capace del tuo ruolo, del tuo compito. Tu, i tuoi subordinati, e i tuoi capi sarete tutti castigati. Lasciami con Nadia. Nadia? Disconnetti. Come ti senti? Come ti senti? Bene, ma quando gli ho parlato, il mio corpo è stato come un brano. Adesso bene, ma quando parlavo con lui, tutto il mio corpo sembrava un tronco rigido. Bene, adesso, dopo questa conversazione, osserva, dimmi come vedi la situazione. Bene, adesso, dopo questa conversazione, osserva e скажi mi, quali tu vedi la situazione? Vedo che tutti questi ufo che vedevo prima sono andati via, ma comunque ne vedo tantissimi sulla terra. Si nascondono da tutte le parti, non so, anche sotto acqua, sotto terra, nei crepaci, ci sono e si stanno preparando. Da sempre così. Dov'è l'essere con cui abbiamo parlato prima? Che sta facendo? Ma dove è stato il tuo senso che abbiamo parlato? Che è stato fatto? No, no, e quando abbiamo parlato, non era niente a terra, niente a terra, niente a luna. Non so neanche dove eravamo, su una nave, ma non so dove. Mi arriva un'informazione che noi dovremmo creare, diciamo, l'atmosfera che possa schermarsi. Non so di cosa si tratta, ma sento che gli scienziati ci stanno lavorando su questo. Che sta facendo quell'essere con cui abbiamo parlato? Che dice tutto il successo con cui abbiamo parlato? A noi io vedo che chiede da un'altra parte, anche se non ha detto per casa, come ho pensato. Vedo che è molto pensieroso, sta andando di qua di là, non dà più nessun ordine e sta riflettendo. È andato a parlare con qualcuno. È andato a parlare con qualcuno? 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 Osservalo nel suo futuro e osserva se va a parlare con qualche superiore. Diciamo che adesso sta riflettendo sul fatto che non sa neanche chi è che gli dà gli ordini. Perché lui riceve gli ordini, ma non sa neanche da chi. E adesso sta riflettendo su questo. Osservalo nel suo futuro, ancora più in là nel suo futuro. Rassmattri e sce o dal suo buddusci. Cosa lo vedi fare? Che non ti dice? Che ti vedi? Uno show, il dolzionosti, non sa neanche da un dolzionosti, non sa neanche da un dolzionosti, non sa neanche da un altro. Diciamo che si è licenziato, però al suo posto è venuto un altro. E lui cosa fa adesso? A un che si dice a sdile? A un che si dice a sdile, non sa neanche da un dolzionosti, non sa neanche da un dolzionosti, non sa neanche da un dolzionosti. Puoi passare le informazioni di questa sessione. sulla terra, dimmi chi la riesce ad assorbire, degli esseri umani. Io vedo tanta gente, come se informa dei... raggi di luce, e vedo tantissimi questi raggi che assorbono queste informazioni, ma non da me, ma dall'ambiente circostante. Quindi cosa succede guarda un po verso il futuro? E che succede? E che succede? Che ci succede? No, se si prendono tutto questo, più più di persone che si interessa. E io vedo che il sdile in la nuova dovrebbe andare in un'altra parte. Cioè, le persone vedono cose che non si vede. E da questo potrebbero sdilevare un'attività. A loro tutto sarà in un'altra parte. Vedo che se tanta gente assorbe queste informazioni, l'informazione comincerà a divulgarsi e ci sarà, diciamo, una rivoluzione dal punto di vista scientifico. Si riuscirà a fare tante altre cose nelle direzioni diverse e la gente riuscirà a creare una specie di protezione, qualcosa del genere. Però vedo che comunque ci saranno dei processi locali con la terra, che ci saranno, non so, catastrofi naturali o che cosa. Ma non sarà una catastrofe globale, dal punto di vista globale, come ci dicono. Però anche queste catastrofi naturali che accadranno faranno sì che le persone si pongono delle domande e guardano la vita sotto altro punto di vista. Bene, adesso disconnetti. Sì, da tutto e da tutti. Bene, adesso disconnetti, sì, da tutto e da tutti. Io conto da uno a tre, e a tre sei al presente da dove sto parlando. Sчитai, da uno a tre, e al rischio di tre, tu in un momento in cui ho parlato con te. Uno. Il tuo corpo comincia a risvegliarsi. Lo senti leggero. Lo senti, che è leggero. Lo senti recuperare tutta la sua forza. Tu senti che è leggero. Lo senti recuperare tutta la sua forza. Tu senti che è leggero. ... ripenivo tutte le origine. tu siemi immagini e tranquilla. Sì, ti senti problema. Tei... apri gli occhi. Ecco l'occasione. Ciao. 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 Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Mi ricordo l'occasione. C'è l'occasione? C'è l'occasione? C'è. Non mi aspettavo così tanta informazione. Vorrei sapere se esiste la costellazione del Cigno. Lo vorrei sapere anch'io. Sì che c'è. Ah sì? Come ti senti, Nadia? Come ti senti, Nadia? Bene. Bene. Sì, c'erano dei momenti che erano un po' pesanti con questi rettili, però tutto sommato sta bene. È andato bene. Avevi... Bene. E Andrei, tu hai sentito qualcosa durante la sessione? Andrei, ti senti qualcosa? Sì, due volte ho avvertito dei dolori alla testa, anche se non mi fa male mai la testa. Di solito. Allora? Sì, tutto qui, però per me, diciamo, è già qualcosa. Complimenti, Nadia, per la tua performance. in hypnosi. Nadia, previ complimenti da Calogero. Grazie. Come ti riusciti all'ipnozio? Molto. Io ho proprio studiato 5 anni meditazione, ma questo è un'altra cosa. Siedi e siediti, e quando non cominciai a vedere il pieno, non puoi andare. Non puoi vedere la domanda. E per questo mi è successo. Allora, per 5 anni ho praticato meditazione. Praticamente mi sedevo per terra, mi concentravo, e finché non riuscivo a visualizzare il piano sottile, non mi alzavo. E quindi ho imparato, diciamo. Bene. A visualizzare. Magari, la vedremo come supporto da qualche parte, magari. chi lo sape? Magari, magari, lo vedremo a te in internet come telepato? O, no! A già capito dove? Sì, volevo chiedere se c'è un corso di formazione in russo, perché non in russo, non so, ma le piacerebbe tantissimo a fare questo corso e impararlo. Stiamo organizzando a formare qualcosa in russo. Sì, siamo in processo, tentiamo di organizzare qualcosa in russo. Perché siete in tanti e c'è bisogno di organizzare subito qualcosa. Perché ci sono davvero molto, e davvero c'è bisogno di organizzare qualcosa in russo. Sì, sono pronto, sono pronto a studiare, imparare, apprendere. Bene, ragazzi, Nadia, Andri, volete che si pubblici la vostra sessione su internet? Ragazzi, voglio che il vostro sessione sia pubblicato in internet? Cosa o non? Cosa o non? Sì, per favore! L'esprevo! L'esprevo! Cosa? 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 Io, per esempio, tutti conoscono i miei amici, chi ho sono, quindi mi non è bello, non è bello. Non è bello, non è bello, ma non è bello, ma non è bello. Allora, Nadia dice che lei non ha problemi, cioè tutti i suoi amici la conoscono e non ha problemi. Può pubblicare senza coprire il volto. Però Andri bisogna chiederlo se censurare il suo volto o no. Io volevo chiedere, Nadia ha detto che tu mi chiedi? Oh, io posso non chiedere! Spaiolizzo, da? Perché? Andri sta chiedendo se è possibile coprire solo il suo di volto, invece quello di Nadia lasciare scoperto. Si, ovviamente. E se è possibile. Perché? Perché faccio un lavoro particolare, ho dei miei problemi, dei miei clienti. Ho dei miei problemi, dei miei clienti. Ho dei miei problemi che vorrei coprire il volto. Ok. 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 Io spengo la registrazione e rimanete online. Ok. 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 Ciao. Ok. Ok. Ok.